Allora, dicevo, io lavoro in questo settore da una ventina di anni, è chiaro che nei vari anni le cose cambiano, si cresce, si impara, si conosce gente e oggi sono stato chiamato per parlarvi un po' più della produzione artistica dei gruppi, come funziona, cosa si fa e cosa non si fa. È una cosa un po' più complessa perché naturalmente a volte dipende anche dal settore in cui si lavora come produzione artistica. Spesso e volentieri per chi lavora in basso, che parti da zero come sono partito io, non direttamente con grosse strutture, magari che hai fatto uno stage, qualche grande casa escografica, studio di registrazione, è chiaro che alcune cose nascono di volta in volta. Era importante sicuramente distinguere la differenza di produzione artistica che c'è fra i vari mercati della musica italiana. Questo vi spiego in poche parole. Spesso e volentieri la produzione artistica è nata in passato per controllare un prodotto, bene o male, che una casa discografica, una casa televisiva o quello che vuole, potesse controllare un prodotto che era consono al mercato in cui si andava. Io mi sono trovato spesso e volentieri invece di farlo in maniera completamente diversa da questo, nel senso sono partito come ruolo principale che ho sempre avuto come tecnico nel suono e fonico. Ho uno studio di registrazione che è cambiato dall'arco degli anni in 4-5 sedi e ho sempre lavorato con gruppi che a un certo punto, quando venivano a registrare, ti chiedevano il modo di aiutarti per realizzare un prodotto fatto bene. Per cui spesso e volentieri quando si tratta di produzione artistica, a secondo del livello a cui ci si riferisce, c'è un intervento leggermente differente. Spesso e volentieri la produzione artistica classica, un produttore artistico è un despota che viene in qualche area scelto dal gruppo o da una cassa discografica. Dopo mi farò esempi anche più concreti per capire come si lavora ai vari livelli. Mentre io mi sono ritrovato a essere un operatore nel settore, a registrare dei gruppi e mancava un qualcosa in più, diciamo, il quinto elemento, io lo chiamo, come del gruppo esterno che dà un suggerimento per come fare le cose. Perché la produzione artistica, se per sé la differenza della produzione esecutiva, la produzione esecutiva è quella che paga, dovrebbe pagare la produzione. La produzione artistica è quella che dovrebbe dare tutte le indicazioni al gruppo. E a volte magari non si sa bene cos'è queste indicazioni, perché non è detto che possono essere sugli arrangiamenti di come scrivere i pezzi proprio, decidere se è troppo lungo, se è troppo corto, se un ritornello è corto, se un ritornello è lungo, qualcosa del genere. Successivamente poi i suoni che possono dare l'immagine di un disco. Poi successivamente anche il modo di registrare. Sono cambiate le tecniche di registrazione in questi anni. Io sono nato vent'anni fa come fonico in un'era analogica, oggi siamo in un'era digitale. Per cui sono cambiati anche i metodi di scrittura dei brani. Una volta se non sapevi suonare non andavi in studio a registrare. Non riuscivi a realizzare il prodotto, perché un batterista che suonava storto non lo potevi raddrizzare con il computer. Oggi è tutto diverso, arrivano già con idee diverse. Naturalmente questo è una roba un po' più complessa. Quando mi hanno chiamato per vedere a parlare la produzione artistica ho detto è un territorio in cui si può dire tutto e niente. Perché spesso e volentieri succedeva anche di farsi produrre artisticamente solo da una persona che mettesse il nome. Perché il nome poteva essere sinonimo di qualità. Magari in passato, in questo caso senza fare nomi di gente che magari nel panorama italiano e internazionale si vantavano di aver fatto le produzioni artistiche solo per essere presenti in studio, dire due cose e poi lasciare il gruppo a se stesso. Per cui in realtà parlare di produzione artistica oggi non è molto facile. Io la cosa migliore che ho pensato, facendomi un po' di punti che mi sono scritto, è di non andare a fare una lista della spesa. Mi piacerebbe innanzitutto creare anche un rapporto con voi per sapere se siete qui venuti a ascoltarmi, se c'è qualche domanda che vi interessa di fare, metodologie di lavoro e di cose. Però la cosa che mi interessava di più era illustrarvi una produzione artistica tipo che faccio io. Io ho una casa discografica, lavoro in un ambito chiamato, anche se fa abbastanza ridere, indipendente. Diciamo che lavoro in un settore indipendente e non a livello super grosso di major. Per me questa è stata una scelta. Dal mio background musicale, da dove venivo, da certe condizioni, situazioni in cui non volevamo avere compromessi, con imposizioni da parte di altre persone. Per cui io ritengo che nel momento in cui un gruppo, una band, mi chiede una produzione artistica, bisogna avere il coraggio di dire a me piace questo gruppo, posso dare qualcosa di più a questo gruppo, allora lavoro con te. E non farlo come un supermercato, una scaletta in cui ci deve essere questo, una casa discografica che si appoggia a un produttore artistico per avere questo prodotto, per buttarlo sul mercato perché deve suonare in questa maniera. Questa è la cosa basilare che per me è fondamentale e che mi ha permesso comunque in questi anni di aver avuto un paio di case discografiche, prima Homesleep Records, poi ora 42 Records, in cui ho sempre fatto una cosa che piaceva a me fare. Difficilmente io lavoro con band che non mi trasmettano cose o che non mi piacciono, pur essendo il mio lavoro, però quando si deve mettere in produzione artistica, tendo innanzitutto a stabilire un rapporto, magari non di amicizia, perché poi magari non ci si vede per tanto tempo, però almeno un rapporto di collaborazione sincero su quello che è la musica, nel senso, te mi chiami per poter avere da me qualcosa in più, non tanto per il nome, ma per il risultato finale del disco. Questo per me è stata la cosa principale. Per cui la differenza appunto fra produzione, manager e indipendente io la vedo un po' così. Per farmi un esempio abbastanza calzante che mi è capitato in futuro e in passato, che ho lavorato anche con dei musicisti che hanno firmato per case discografiche grosse come la EMI, la Sony o la Caselli, la Sugar, queste cose qui, era successo anche che era stata fatta una proposta in cui l'artista che era stato contattato da una major e avrebbe dovuto dare alla casa discografica dei brani chitarra e voce, questi brani chitarra e voce sarebbero stati messi in mano a un certo produttore noto che la casa discografica, su cui la casa discografica si appoggiava per sapere che sarebbe venuto un prodotto del genere e in qualche maniera, secondo il mio punto di vista, avrebbe in qualche maniera snaturato il progetto in questione e l'avrebbe impacchettato per un mercato mirato al panorama italiano. Queste sono scelte, per cui dovete anche voi, se siete interessati in un futuro, o fare una cosa del genere, dovete capire se decidere di lavorare per conto di qualcun altro oppure per conto vostro, rischiando naturalmente pro e contro in entrambi i casi. Io non ho mai deciso di lavorare imponendomi da qualcuno, questo è stato il mio modo di lavorare. Per cui spesso e volentieri mi sono trovato con band in cui, con tante, guarda te che ci siamo salutati prima, con il Colore Perfetto, un gruppo che ho collaborato per due dischi, che è nata anche amicizia con queste band e collaborazioni, perché poi mettendoci del mio in una band, nella produzione, riesci in qualche maniera a dare sinceramente una mano a farli suonare da qualche parte, andare anche con qualcosa in più, perché credo che quando fai una produzione artistica è fondamentale che tu ci metta un po' del tuo, cioè che te lo senti anche tu al disco. Con dei pro e contro che ci arriveremo strana facendo. Per cui quello che vi voglio raccontare è quello che io faccio normalmente con una band quando vengo contattato. È chiaro che mi arrivano un sacco di materiali per tanti motivi, per la casa discografica, per i dischi che ho fatto e cose del genere. Avendo poi uno studio di registrazione, alcuni lavori li faccio per conto terzi, affitto allo studio, lavoro e fita lì. Quando una band in realtà mi chiama per fare produttore artistico, la cosa fondamentale è capire innanzitutto questo disco, che cosa dobbiamo farci. Perché purtroppo oggi, con le problematiche dell'industria discografica, dobbiamo capire un attimino dove vogliamo andare a parare con questo disco, perché c'è un costo maggiore per fare una produzione artistica. I tempi si allungano e i tempi anche di lavorazione possono essere anche un po' più complessi. E le problematiche possono spesso essere problematiche anche legate al punto di vista economico. Per cui la metodologia in cui io decido di lavorare è che quando un gruppo mi chiede una produzione artistica è farmi mandare del materiale, il materiale che può aver registrato, che può aver fatto in passato, e capire insieme alla band, con il disco che vuole realizzare, dove vorrebbero arrivare. È chiaro che se hanno una casa discografica, se non hanno una casa discografica, se c'è dietro un manager o una situazione che possa permettere che questa produzione artistica abbia un senso a finalizzare quello che loro vogliono fare. Di conseguenza, la difficoltà a volte di una produzione è che ci vorrebbe un tempo maggiore che si chiama preproduzione, ovvero sia che sarebbe il tempo che dovresti perdere, fra virgolette, o in sala prove, o in studio di registrazione, o da qualche parte, di poter ascoltare con calma tutto il materiale che il gruppo ha e capire se può essere pronto per essere registrato o no. Una volta fatto questo, le problematiche sono ritrovarsi per trovare questa cosa. E oggi, per fortuna, grazie anche ai mezzi di internet, ci permette di scambiarci il materiale con MP3. Per cui il consiglio che do sempre, anche quando si intraprende un primo discorso del genere, è riuscire a capire subito se c'è la possibilità di uno scambio veloce di materiale e se la band è in questione, ha una possibilità di registrarsi anche al volo, in sala prove, per capire un minimo, non importa che ci siano i microfoni belli o che ci siano delle situazioni da studio, perché stai venendo i studi da me a registrare. Io come un produttore devo solamente percepire quello che te vi fai, spesso e volentieri, quando la distanza lo permette, capita di andare a vedere a concerti, le band, capire innanzitutto una cosa banale, ma che oggi è fondamentale, se sanno suonare, perché a volte ci si dimentica l'aspetto banale, perché spesso e volentieri in casa, con un home recording, succede che basta fare due colpi, si monta sul computer e si riesce a fare tutto, per cui da questi piccoli particolari farsi un'idea globale di quello che è il gruppo, di quanti sono, di che tipo di produzione vogliono fare, da un punto di vista se vogliono fare sovraincisioni, registrazioni o cose del genere. Una volta definito a grandi linee che si può lavorare su una band per fare una produzione, lì incominciano degli equilibri strani, perché spesso e volentieri succede che le band più piccole, con cui lavoro spesso io, magari non si rendono conto che sono molto affezionate a quello che fanno in sala prove, a un suono di chitarra, a una parte di chitarra, di cantato, di basso, no, ma lì ho fatto quel passaggio che mi ha dato, che pensa che possa svoltare il brano. In realtà in una produzione artistica bisogna riuscire a vedere, questa è la difficoltà principale, già una specie di prodotto finito, perché ti devi immaginare e devi, con l'esperienza che ti sei fatto, pensare di come può uscire, per cui trovare anche i punti di forza delle band su cui puoi spingere per fare certe cose e altre non. E lì a volte succedono anche delle situazioni in cui non è facile interagire con le band in sé per sé, perché in qualche maniera, seppur vieni contattato per farlo, ci può essere sempre delle scelte, cioè il produttore reale, per capirci, un Rustici che produce per la Caselli, o che ha prodotto per la Caselli, un Negramaro o un Elisa, è uno che ha un potere contrattuale, è una situazione in cui viene, gli hanno mandato alla Caselli di produrre questo band, non guarda in faccia a nessuno, prende il gruppo e dice, te cosa vuoi fare? No, guarda, non ci siamo capiti, ci penso io, te fammi la voce e poi ti metto io sopra le chitarre e la batteria. Questa è una metodologia che a chi lavora nel settore deve decidere lui come interpretare questo lavoro. Io cerco, invece di instaurare, nel senso la mia figura, vorrei riuscire a tirare fuori il meglio di una band che fa. Nel senso, mi arriva una band rock che vuole fare un certo tipo di sonorità, che magari in maniera banale ti dice, guarda, io vorrei una batteria simile a questo gruppo, vorrei un groove simile a questa cosa, io cerco di sfruttare te e te e te del tuo background per dirti, ok, con la mia esperienza cerco di portarti a fare quello che vuoi. Io ho questa visione di questa produzione artistica, pur con la casa discografica in cui investo tanti soldi nei miei artisti che produco, è difficile che imponga delle scelte drastiche, oppure dire, no, guarda, questo brano proprio non funziona, bisogna riarangiarlo tutto, perché comunque c'è un'attitudine, io penso, completamente diversa e una sensibilità sul genere musicale. E poi, naturalmente, purtroppo, quando ci sono troppi soldi in ballo sulle major, invece cambia drasticamente questa funzione. in questo processo che si va a analizzare, ora io sto parlando a ruota libera per indicarvi un attimino come mi muovo io, poi vi piacerebbe anche interagire e se avete dei punti particolari, perché io potrei andare avanti fino a domani mattina su certe esperienze, non so se posso risultare magari alcune cose un po' più o meno noioso, se volete o se mi siete messi in un'idea di cosa potevate ascoltare da me o avere. Perché nella produzione artistica c'è tutto e niente, alla fine. Nel senso, puoi trovarti studio e prenderti a cazzotti con i musicisti, come è successo. Vedere a volte io, fonico, e vedere un produttore artistico, un artista che si prendono a cazzotti per una parte di chitarra. Questa è all'ordine del giorno è successo, perché siamo talmente dentro al processo, alla paternità delle cose, all'idea di non essere in grado di raggiungere quello scopo o di percepire dell'essere bravo o di fare quella parte, in cui succede veramente di tutto il studio. Questo è anche il lato positivo e divertente a volte, di lavorare con band differenti. Per cui possiamo fare un esempio, diciamo, base, di una produzione che ho fatto per 42 Records, che è un artista che quest'anno ci è andato molto bene, a noi che è Cola Pesce, che abbiamo vinto il premio Tenko, abbiamo vinto un sacco di premi al May, al May, al May, Dimex, riconosciuto comunque come produzione. Io lì ho fatto proprio la produzione artistica. Lì ero coinvolto anche come casa discografica, per cui ero anche coinvolto come produttore esecutivo, perché ero quello che in parte pagava lo studio e che organizzava come management, fra l'altro, anche tutto il resto. Per cui lì, facendo una rapida carrellata, è andata così. Lorenzo è Cola Pesce, ha portato un lavoro dei provini che aveva fatto all'arco di mesi. ce l'ha mandato a noi, abbiamo ascoltato i brani, io mi sono preso il mio tempo per ascoltarli e capire su come si poteva intervenire. Poi successivamente sono andati in sala prove e in sala prove ci siamo confrontati, cercando di avere un riferimento di sonorità, per che tipo di sonorità andare a questo disco, avendo preso anche in maniera molto banale, a dire cosa stai ascoltando in questo periodo, c'è qualche band che, senza vergognarsi anche a dire questo, però senza esagerare da un certo punto di vista, che band stai ascoltando in questo periodo, che tipo di sonorità vorresti avere, cosa abbiamo per le mani, riusciamo noi a fare qualcosa di questo? e abbiamo passato tipo tre o quattro giorni in sala prove a suonare. A suonare e il mio ruolo in quel momento lì è stato un po' come direttore dei lavori, nel senso, guarda scusami, invece di far suonare un computer con una barra spazzatrice su un programma, fermavo la band e dicevo, un attimo, mi rifai questo passaggio, ma se qui cambiassimo questa strofa, facessimo un giro in meno, oppure cantiamo questo. E da lì ci siamo, diciamo, premuniti di creare un prodotto, una canzone, una forma canzone, che avesse un senso per noi in quel momento e che potesse funzionare per quello che avevamo in testa in quel momento. Non ci sono mai stati scopi, secondi fini, oppure di arrivare lì. Perché poi il bello è anche riuscirsi a farsi trasportare durante questa cosa. Io dico sempre a tutti, proporre non costa niente. Proporre qualsiasi soluzione. Dire di no, pazienza. L'importante è non prendersela male a volte. Nel senso, l'essere diretti quando lavorate insieme a delle band, per me è fondamentale. Dire, guarda, questa cosa non mi piace, mi fa schifo. Ma mi fa schifo nel senso per dirti che proviamo in un'altra. Si fa prima a provare in un'altra che a stare ore a parlare. Perché succede che ci sono tanti tempi morti, sia in studio che in sala prove, o quando si fa la produzione, a parlare di piccoli dettagli. E lì non è tanto la forza del produttore artistico che può decidere o non decidere. è proprio riuscire a relazionarsi con la band per cercare di entrare in quel mondo e il perché vuoi fare questo e il perché non vuoi fare quest'altro. Per cui dopo questa sessione in sala prove ci siamo presi altro tempo, ci siamo riascoltati tutte le prove che avevamo registrato in sala, abbiamo fatto passare un po' di tempo e abbiamo analizzato se le scelte che avevamo fatto ci piacevano ancora. Successivamente, quando ci siamo resi conto che eravamo maturi per registrare un disco siamo andati in uno studio di registrazione con un prodotto diciamo non finito ma sempre di riferimento e siamo andati in studio per cercare di realizzare questo disco. La cosa bella che è il consiglio che io do sempre a tutti è sempre, mi ripeto in continuazione, ma è di non di farsi trasportare anche dal momento. La cosa importante di una produzione artistica di un disco di un di un qualsiasi cosa che si fa nell'arco della musica o di un qualcosa o di un'esperienza artistica in generale è che noi stiamo fotografando in questo caso stiamo registrando ma è una fotografia del momento oggi registriamo così domani potrebbe venire completamente differente questo disco per cui è un classico questo per dire che quando si finisce un disco uno dice però potevano farlo in un'altra maniera si potevano fare in tante altre maniere però l'importante è riuscire a vivere il momento in cui sei in studio la concentrazione e l'intimità che si crea con la band in uno studio per cercare di trovare un equilibrio e una sinergia in tutto dai minimi dettagli alle cose inutili perché poi succede che quando sei in studio con una band magari la gente non si rende conto ma stai 20 giorni in studio con una band fate voi quante ore stiamo insieme cioè nemmeno con mia moglie sto così tanto insieme ecco per stare per cui si creano degli equilibri e a volte anche una saturazione che può essere in qualche maniera sminuita da piccole cose che le soluzioni che si trovano una volta in studio è chiaro che lì il lavoro può cambiare a secondo del ruolo che ha il produttore artistico nel senso il mio ruolo è un ruolo di fonico anche per cui nel senso se devo spiegare a una band o voglio far sentire un'idea che posso avere essendo anche musicista posso prendere uno strumento in mano oppure posso registrarlo decidere di microfonare in una certa maniera per farti sentire cosa è in testa nel caso invece un produttore artistico non abbia questo ruolo si deve avvalere di collaboratori e di studio in cui sai che chi lavora alle macchine sia recettivo in quello che gli dici perché c'è un passaggio in più e una persona in più fra l'artista e il produttore per cui anche lì spesso e volentieri bisogna riuscire a focalizzare cosa si intende per il produttore perché a volte il ruolo di produttore può anche essere un fonico che aiuta una band oppure può essere come un mio amico che non ci capisce nulla di musica di strumenti o di mixer però ha una testa che ti dice sì mi piace no non mi piace e cambia magari tutte le cose e allora lì anche per sfruttare il tempo che il tempo purtroppo in questa situazione è sempre tiranno è riuscire a focalizzare e a beccare quello che si vuole da un progetto per cui ci sono delle scelte a volte che il produttore deve fare drastiche e decisive cioè nel senso si deve imporre in dei momenti a costo anche di litigare perché se poi si dà troppo la mano al gruppo passi per uno che si ti dice una cosa il gruppo vuol provare perché si è svegliato ah ho pensato questa mattina ma se il brano lo facessimo in mi invece che in sol e magari hai lavorato tre mesi su quel brano perché hai capito che deve essere in mi e non in sol e che magari l'hai arrangiato in una maniera ti non puoi permettere di dire no guarda ah sì potresti avere un'idea forse stai sbagliando allora il produttore deve riuscire anche in qualche maniera a gestire un equilibrio di tutte l'essere artista degli artisti lunatici che non hanno voglia e capire anche dei momenti in cui c'è da smettere o da andare avanti spesso e volentieri succede che anche nel disco dico la pesce ci siamo arenati su una batteria abbiamo portato a casa in un giorno niente perché succede in studio che per motivi astrali o perché uno è meteoropatico o c'ha qualsiasi cosa a cui pensa o perché in quel momento non c'è mentalmente bisogna considerare anche sempre che i musicisti non sono macchine da riuscire a fare quello che gli imponi di fare per cui ci siamo trovati a discutere e gente che è uscita dallo studio imprecando perché ti viene quello che ti dice ecco io sto pagando i soldi si perde una giornata e non faccio niente allora la figura del produttore in quel caso lì deve essere una sorta di psicologo musicale riuscire a cercare di percepire come sono anche le mentalità dei musicisti di tranquillizzare un musicista e dire guarda va sempre tutto bene non ti preoccupare se ci vuole un giorno vuol dire questo pezzo ci vuole un giorno naturalmente un po' per esperienza succede che questo brano qui la mattina dopo siamo entrati alle 10 studio alle 10.45 l'avevamo registrato e l'avevamo messo da una parte e siamo passati al brano dopo e ti dovessi dire il perché vi dovessi dire perché è successo questo non lo saprei dire nemmeno io cioè sono cose che succedono e lo capisci con l'esperienza abbiamo cambiato pelle rullante abbiamo cambiato 12 microfoni alla cassa perché secondo lui la risposta armonica della cassa con quel microfono non permetteva di dare quella sonorità o quella omogeneità che lui voleva in testa perché voleva fare una batteria alla pinco pallino però gli viene veramente diverso non ci riesce questi sono gli aspetti tra virgolette più difficili studio ma da un certo punto di vista anche più piacevoli perché se non ti fai trasportare troppo vedi una quantità di situazioni e anche divertenti che ti permettano di conoscere meglio le persone per cui una cosa che io ritengo fondamentale è che chi voglia un minimo buttarsi dentro a questo mondo che è un mondo molto strano che non ha regole ben precise ce le può avere ma possono essere sempre cambiate è che devi avere una mentalità in cui veramente lavorare non dico come un psicologo musicale ma lavorare tanto con la psicoacustica succede che sposti una roba a una persona fai finta di spostargliela e questa persona dice cazzo ora torna tutto veramente allora ma io guarda lì dipende dove sei c'hai dei musicisti in cui veramente ti fregano che hanno un orecchio bestiale e allora l'incapisci anche apprezzi magari fai una prova per vedere se lo sente tipo tu chi magari fai finta di non toccare mi guarda non hai toccato nulla vero è uguale sì dai lo so prova ora allora la seconda volta però fa e ora li faccio io ho toccato o no senti un po' oppure magari puoi alzare e rimetterlo per la prima te percepisci che l'hai spostato una cosa però non riesci a capire subito se era dove prima perché ti arriva una differenza però magari ti può tornare o si ferma lì questo ti può aiutare sinceramente in altre situazioni in studio è un po' più diciamo questo succede molto dal vivo spesso e volentieri il classico cantante che dice non mi sento dai monitor mi puoi alzare così va bene perfetto non hai toccato nulla questo succede diciamo otto volte su dieci perché se dai quel DB in più fischia per cui non succede anche questo però diciamo che su quanto riguarda la produzione un concerto passa in un secondo suoni è già passato quel momento un concerto è una serata e via un lavoro in studio può durare veramente anche tanti giorni per cui non ci si prende in giro però è importante riuscire a accettare i compromessi o almeno sia a valutarli questo è importante del lavoro in studio per cui è molto complesso vivere a stretto contatto tanti giorni in studio con una persona la cosa che io do un consiglio principale a chi prova a fare questo lavoro è che riuscire non a far finta di avere sempre tutto sotto controllo ma riuscire un po' sì a dare l'idea di avere sempre tutto sotto controllo perché la sicurezza aiuta molto i musicisti poi se te hai una certa esperienza o non è chiaro te la devi fare o te la sei già fatta per cui puoi anche pensare ok ci penso dopo a come risolvere questo problema però so che lo risolverò questo è importante quando sei in studio ci sono dei momenti a volte che il gruppo in studio magari incomincia a scazzare oppure a divertirsi e a dire un sacco di stupidaggine perché magari hanno lavorato tutti i giorni normalmente in ufficio in fabbrica dove vuoi spesso tante band sono così si prendono 10 giorni di ferie 20 giorni di ferie fanno il loro disco e si sentono un po' in vacanza in studio quando siamo in studio in vacanza per me è lavoro e di conseguenza te mi stai pagando c'è un rispetto anche di cose che divertiti però siamo a fare una cosa perché è importante che se devi usare il mio nome per mettere su un disco prodotto da me io vorrei che la produzione cioè essere sicuro di quello che produco cioè essere contento e convinto di aver fatto un buon lavoro per cui dipende anche dal gruppo che la produzione artistica possa funzionare perché cioè se il gruppo poi a un certo punto non suona o fa come vuole lui è successo che siamo interrotti io ho mandato a casa un paio di gruppi nella mia esperienza e qui guarda facciamo così questo è il materiale che ho fatto fino ad ora mi paghi fino ad ora ciao non sono in grado o non siamo in grado di poter lavorare insieme bisogna avere anche il coraggio di queste scelte drastiche quando siamo in studio è chiaro che una responsabilità te la prendi poi queste cose dipendono molto dall'esperienza non c'è niente da fare nel senso non si lascia imparati non c'è una regola e la lavorando da 15 anni in studio incominci la prima volta che ho messo le mani su uno studio magari ho registrato i miei amici e insieme abbiamo deciso insieme come fare da cosa nasce cosa fai gruppi fai gruppi fai dei gruppi che suonano allora ti vengono a chiedere di dargli quella sonorità che hai dato a un altro gruppo io ho passato tanti anni con un gruppo in cui avevo fatto dei suoni di batteria che piacevano insomma tipo 20 gruppi mi continuavano a dire mi fai la batteria stile è quello te la faccio ma però può mancare personalità per cui riuscire tutte le volte anche di mettermi in gioco io questo è importante mettersi in gioco e dire ok te vieni a me perché ti aspetti che faccio una batteria in questa maniera però io te la faccio ma nel contesto cerco di rendertela personale te la personalizzo non voglio fare un clone di una cosa che ho già fatto con un altro gruppo perché non avrebbe senso perché c'è già quell'altro gruppo che ha fatto certe sororità io sono una persona che ha differenza perché il mio lavoro principale nasce come fonico e tecnico del suono in più un amante diciamo degli strumenti dei microfoni di sapere come funziona tutto il resto cerco di cerco di lavorare a 360 gradi per cui per me una produzione la vedo anche in funzione di come si registra di che strumenti voglio usare e perché uso questa batteria e non uso questa batteria qua e perché uso questo basso e non per quel basso lì capito e perché mi fanno schifo certi strumenti e altri no allora è chiaro che lì se mi chiedi una produzione io ti impongo a dire guarda vuoi vedere da me che batteria hai e io magari non mi piace io conosco la mia batteria ti vieni da me si usa la mia batteria se non ti piace usiamo la tua però dammi una possibilità perché penso che magari con questa solidarietà io ti posso dare qualcosa di più perché a volte bisogna accettare i limiti che abbiamo e specialmente poi naturalmente questa è una cosa che non ho detto ma forse sarebbe la prima cosa banale da dire che tutto dipende dal tuo gusto e dal genere che fai cioè io sono un produttore che lavora anche se questo fa ridere a me mi fa tanto ridere sull'indie rock al di fuori di quello io è difficile che possa lavorare con una band per fortuna i miei clienti sono tutti in quel settore perché mi sono specializzato ma se domani mi arrivasse un gruppo metal o reg non sarei assolutamente in grado di dare quello che vorrebbero perché non so nemmeno come approcciarmi su quel genere musicale per cui l'importante secondo me è riuscire sempre a focalizzare il punto di arrivo in questa cosa della produzione artistica e di capire se veramente a costo di rimetterci dei soldi perché è tuo lavoro questo è un po' più romantico io vedo la cosa nel senso se penso veramente che quel disco è con me può dare qualcosa di più lo faccio altrimenti no altrimenti mi paghi come studio vieni te 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 chiunque mi dici io devo registrare un disco bene facciamo le batterie ti piacciono? sì bene facciamo un basso e vado non ti dico se a me piace o no sono diciamo un operatore che lavora viene pagato uno studio come vai al supermercato e compri le tue robe e paghi vieni da me e registri le tue cose io te le faccio mi paghi e ciao questo c'è sempre una linea sottile insomma di demarcazione però sulla produzione io sono abbastanza drastico in questo ecco mi piacerebbe sapere un po' da voi cosa fate e cosa vi aspettate da questa conferenza questa chiacchiera insomma che la se vi va senza imbarazzo e nulla se vi aspettavate qualche discussione perché io posso continuare con esempi se volevamo focalizzare insieme qualcosa nel dettaglio e la sulle sonorità sulle scelte cioè in realtà capito non vorrei fare una lista e basta e risultare anche noioso a dire solo una pratica che si fa per cui se ci pensi però nel senso stavo ero in studio qualche giorno fa ho cambiato questo studio ero in studio nuovo ho cambiato macchine e ci stiamo ripensando a dire ma mi sarebbe piaciuto la prendo un po' più lunga però per arrivare a te è un concetto banale vorrei comprare una macchina analogica che ho sempre avuto un registratore a nastro e ricordavo sai che uno degli ultimi lavori che avevo fatto una produzione in cui vado molto fiero e suona molto bene è l'ultimo disco inedito diciamo di Molteni il segreto del corallo e ho detto cavolo sì in effetti quando ho fatto quel lavoro lì parliamo con un'altra persona ho fatto tutto in analogico un po' alla vecchia si dice no? la cosa che mi sono accorto in quella produzione una cosa veramente banale è che ho preparato i suoni ho preso il nastro ho alterato la macchina e ho cominciato a registrare suonando anche io nel progetto Molteni in un basso mi sono fatto aiutare una persona che registravo una volta che ho finito la mia parte di musicista sono andato in console e mi sono messo a fare play stop o a registrare qualcos'altro è una cosa che è proprio moderna mi sono reso conto che continuavo a fare e non vedevo niente perché il computer era spento capisci dove voglio arrivare forse cioè io facevo play su una macchina e ascoltavo e usavo l'unica arma che spero di avere buona ovvero sia l'orecchio e non vedere una roba in testa e vedere una roba negli occhi nel monitor perché oggi si lavora molto con gli occhi allora ti mi fai questa domanda banale al di là delle mie polemiche di lavorare con gli occhi e non con le orecchie ma ti dico ti mandi un progetto io non guardo mica io ascolto ti posso dire figo questo progetto ah l'hai fatto te bravo sei riuscito a fare un po' l'estrumentista tanto di campello vogliamo fare un disco ok pensi che sia bene che tu registri a te o c'è bisogno di un batterista un bassista un chitarrista ok lo riesci a trovare vuoi che te lo trovo io è già risolto il problema il problema il problema forse quello che mi dici te andrebbe più analizzato da un punto di vista economico allora ti do la ragione Giuseppe la persona che mi ha fatto vedere qua è manager di un artista che ho fatto io di Marzia di Progetto 1 quando Marzia mi ha fatto sentire il progetto non c'era batteria non c'era niente e mi hanno detto guarda io vorrei fare questo progetto ho sentito quello che hai fatto te vorrei questa sonorità che ne dici ho registrato quasi tutto da solo avevano fatto in due o in tre è successa una cosa banalissima ci siamo trovati abbiamo ascoltato e ho detto guarda secondo me dovremmo forse invece di fare una cassa con protuzzo con un sequencer che mettiamo qua hanno messo l'oro oppure un tamburello oppure un bongo che ti hai messo un bongo io ci sentirei magari un groove di batteria magari anche semplice ma non abbiamo un batterista ora se permetti è chiaro che se ti appoggi a uno studio o a un produttore che comunque ha 20 anni che lavora o comunque un minimo non vai dal tuo amico in cantina a registrarti il disco insomma ho alzato il telefono ti dico anche un nome ma non importa Andrea senti ti va di registrare un disco c'è questo budget ho bisogno di te di due giorni per le prove e due giorni per gli studio per fare la batteria ti può interessare sì io ho preso quello che te avevi mandato a me l'ho mandato a lui sentiti brane fatti un'idea io pensavo una mail io pensavo su questo pezzo di mandare questa cosa fammi un riff cioè studiati qualcosa che non sia sui tom e timpano faccio un esempio su quest'altro vorrei che tu andassi una roba tipo percussioni per cui vai solo su tom e timpano con un ride ma non usare i crash giusto per mandare una cosa di 5 minuti lui l'ha sentita ci siamo trovati abbiamo fatto due giorni di prove ci siamo potuti permettere di fare due giorni di prove perché anche quello non è facile a volte è venuto in studio ho montato la batteria ho microfonato ho registrato ciao e è andato via e quello l'abbiamo già risolto per cui nel senso a volte queste soluzioni che mi dici te sono più banali di quanto tu possa pensare cioè la gente tende un po' a perdersi in un bicchiere d'acqua so che è difficile però alla fine nel mio settore nel settore più indipendente quello che fa la differenza sono i soldi non c'è niente da fare è chiaro che se una EMI un Universal una Caselli ti prende non saranno certo due giorni in più in qualche centinaia di euro per pagare un musicista o un produttore capito? cioè lo fa punto e basta e nel progetto investe x soldi e sa che ce le riprende poi lì si entra però è una cosa molto molto più complessa edizione insomma come recuperare i soldi per cui è un'industria che si mette in moto capito? che una parte dei soldi li investe queste cose nelle produzioni un po' più piccole capisco che io posso venire incontro ma capisco che la cosa reale è il tempo il tempo poi che quantifica i soldi per cui rispondendosi mi sembra che può essere abbastanza banale capito? ti voglio dire e di conseguenza se te dici è successo che anche lo stesso Amarsa ha fatto il progetto l'abbiamo fatto in una certa maniera poi dopo ha trovato altri musicisti per rifare il progetto dal vivo cioè dipende sempre è chiaro che non puoi spendere che ne so 7-8 mila euro per una produzione artistica andando in uno studio per poi avere questo cd a casa cioè se vuole puoi anche fare e sentirtelo te e farlo ascoltare agli amici e dire oh che figo mi ha prodotto picco pallino vabbè è finito lì poi cioè di solito purtroppo per fortuna o per sfortuna lo step del produttore artistico è uno step in cui si si spera si presuma che sia uno step successivo al base che parti a suonare capito perché la comporta comunque delle spese è un inter abbastanza complesso insomma ecco non so se sono però non devi essere troppo non devi essere troppo presuntuosa e non pensare e non trovare della gente che suoni con te perché non trovi delle persone che non suonano con te cioè per dirti allora se vuoi fare tutto da solo sai tutto da solo e lo sai se magari pensi che ci siano problemi cioè che non le trovi in realtà si possono trovare capito ti voglio dire cioè nel senso devi avere pazienza ma io la prima volta che ho preso un bassino ma non sapevo suonare cioè devi solo avere purtroppo avere un po' pazienza e essere comunque è la magari non dico presuntuosa assolutamente perché non vai puoi andare a nessuna parte però avere una coscienza di dire posso imparare cioè fare quello che sai fare in quel momento e poi da cosa comunque nasce sempre cosa in questo settore non c'è niente da fare cioè se te vai quando meno te l'aspetti vai in giro a suonare conosci una persona produce una band qualcosa è proprio un tentacolo in questo cioè non c'è una regola conosci una persona che ti porta a un contatto che conosce ah ma te conosci può essere tutto molto più semplice è chiaro che essendo anche casa discografica ho a che fare con band appena nate che mi mandano materiale e vorrebbero dire ma come faccio a farmi produrre se lo sapessi avrei svoltato insomma anch'io nel senso capito non è detto che ci abbia una bacchetta magica la mia presunzione può essere quando produco una non band quella di dire ricordati una cosa io non ho la bacchetta magica se ti posso dare una mano per il nome che ho per le solennità che ti faccio sicuramente qualcosa di differente ci sarà speriamo che sia in bene però non per questo che ti farò svoltare questo purtroppo non lo posso sapere capito perché poi di base no dobbiamo avere anche dobbiamo anche avere una presunzione di base senza veramente farci problemi anche se è cattivissimo lo so ma lo diventi a dire non te nessuno di voi mi raccomando ma guarda che non vale nulla non potrei mai sfondare bisognerebbe riuscire a dire alla gente capito perché illudi così le persone ci sono dei progetti in cui ti giuro ho sbagliato poche volte ma per caso ma non perché voglio fare lo sborone come si dice a Bologna ma ho sbagliato poche volte alcune band che magari non mi hanno chiesto nemmeno la produzione oppure alcune che mi hanno chiesto la produzione e ho detto sì guarda in effetti mi piace cioè lo faccio volentieri non mi piace lo faccio volentieri perché diventa anche una sfida per me riuscire a dire magari poi ti affezioni a certe canzoni a certi suoni però poi sai perfettamente che quel disco andrà nel dimenticatoio questo bisognerebbe essere consci di questo cioè non bisogna nasconderselo come ho saputo per fortuna avere qualche orecchio da aver scoperto qualche band che ha funzionato insomma in questi ultimi anni non voglio assolutamente fare quello che ho indietro che ho fatto ma qualcuno ha funzionato molto bene insomma per cui ancora qualche orecchio ce l'ho buono lì sarà un caso un dono oppure a culo ragazzi c'è anche il culo c'è niente da fare ma arriva un giorno una band che conosce una persona arriva un produttore ma è fantastico dai facciamolo boom e scoppia è successo anche questo capito per cui il culo può essere essere al momento giusto capito arrivare al momento giusto nel momento giusto con la persona giusta lì se lo fai due mesi dopo non succederebbe più questo per cui c'è anche questa situazione per cui il ruolo di produttore artistico è un ruolo che io lo mescolo tanto cioè metto un calderone tutto ci metto no quella spirituale ci provano qualcuno a chiedere ma non non no però però tipo succede spesso e volentieri ho fatto una band un paio di mesi fa che ti giuro mi piaceva un sacco veramente un sacco un po' un vecchio stile mio insomma di cose che ascoltavo vent'anni fa è un disco che rimarrà lì lo sappiamo tutti noi lo sappiamo tutti noi però mi sono così divertito ci ho messo tutto me stesso loro erano strafelici io ero al settimo cielo e mi sono divertito lavorando non mi sono nemmeno accorto di lavorare e suona benissimo quel disco sono comunque orgoglioso tipo ah senti posso farti una chitarra qui cavolo mi è venuto in mente un solo di farti ah sì sì dai ecco questa mi piace fare poi però obiettivamente se ti dovessi dire che venderanno più di 500 copie penso sbaglierò di poco veramente però tanto di cappello cioè nel senso io se posso aiutarli dici guida spirituale sicuramente scrivete a queste persone dicendo che vi ho prodotto io e fai sentire è chiaro questo sì però non posso farti uscire per la mia etichetta ecco questo bisogna sempre distinguere quando c'è un produttore che c'è anche una casa psicografica c'è capito dipende poi sempre da dove vai con chi vai e cosa vuoi fare questa è la cosa principale e a volte devi provare a fare un salto un po' nel vuoto perché spesso e volentieri mi rendo conto che tante band si appoggiano ma non solo a me c'è tantissima gente produttore con la speranza che ti possa portare da qualche parte però sia io che altri miei amici o colleghi o collaboratori che producano anche tanti altri gruppi sono convinto che insomma se non nove su dieci ma otto su dieci sappiamo già che chi ce la può fare e chi non ce la può fare comunque sia non sarei una detta lavoro non avrei una casa discografica che mi funziona non avrei un management che mi funziona non avrei un nome come produttore che non mi funziona perché comunque fa parte del mio lavoro non dico di essere un talent scout assolutamente perché spesso e volentieri molti dei gruppi che mi hanno funzionato di più mi sono arrivati per caso tipo veramente mi è arrivato un demo che bomba questo demo ascoltiamo un attimo vediamo va bene ecco cioè alla vecchia proprio nel senso non è che vado a cercare dappertutto per cui è sempre tutto relativo a parte te che un po' ti conosco c'è qualcun altro che la certo però non ho scoperto anche a Roma ho scoperto di dovevamo sia in generale e di una data prima di essere un po' ma quanti importanza hai per esempio a suggerire che si condina la fase pre-produttiva del tuo lavoro o il tuo lavoro mi ascolta il tuo lavoro mi ascolta il tempo sovrievo le cose mi ascolta il grande mercato di caldo o il risultato del mercato di caldo quello che sta producendo dei nuovi come da tutti i metri che va a rispondere ma questo è inerente a qualcosa sulla produzione di quel disc cioè te mi mandi te mi mandi un provino un demo no e quanto io posso dirti ascolta questi e cosa è z ma di dipende perché l'ultimo prodotto che mi è arrivato per produrre un gruppo tipo parlando con il mio socio ho fatto guarda mi hanno chiesto mi hanno chiesto questa band di produrla sento un attimo 30 20 secondi di video su youtube e capisci faccio l'esempio che era un clone comunque fatto bene di un gruppo proprio marcato e lì ti sei già risposto da solo cioè che ti faccia ascoltare cioè era proprio una roba palese capito per cui capita spesso così cioè spesso e volentieri le cose che ti arrivano purtroppo sono troppo simili già a qualcosa allora bisogna capire in quale fase si può fare questa cosa qui perché se te mi chiami mi mandi un materiale e io ti dico un nome a caso guarda non è che ti piacciono i radio per caso e tu dici eh hai capito magari forse potresti avere un minimo di personalità in più no i radio funzionano benissimo e suonano a far paura forse non è che aspettano a te per fare un altro radio radioed 2 come un miliardo di altri gruppi per cui devi avere anche un po' di delicatezza a intervenire in questo perché c'è proprio un aspetto e poi dici eh ma se mi piacciono ho capito ma mi fai anche la produzione allora probabilmente io farò di tutto per non farti suonare come radioed perché se no che senso ha in questo però quello è un po' il tuo background e allora forse lì entra la meritocrazia nel senso te mi mandi un pezzo alla radioed lui ha l'Oasis te la te la faccio fare a Robin Williams capito per dire Alicia Gay una cosa in genere lui me lo manda faccio l'esempio una roba più che mi piace a me prendo lui cioè oppure lavoro più facilmente con lui perché con te 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 non saprei dove battere le mani cioè non saprei dove andare a parare capito perché fare di tutto per non fartelo suonare o non farti dare quell'imprinting ma questa è una mia scelta oppure posso fare il contrario da dire lo vuoi uguale va bene facciamo una sfida facciamo un uguale cerchiamo allora ad analizzare allora se nasce questa cosa capito diciamo andiamo a analizzare che ne so i 7-8 dischi di radio e vediamo come li hanno suonati cosa hanno usato per registrarli e ci perdiamo comunque sempre però questa non c'è verso capito cioè per cui è un po' difficile puoi invece avere nel caso che capita spesso cioè nel senso nell'altra parte perché di solito sono due situazioni o un gruppo che assomiglia a tutto un gruppo preciso o una roba che non capisce la cosa e senti solo sonorità a quel punto ti do ragione si può lavorare io lì mi viene istintivo magari mi ricorda il tuo demo mi ricorda un disco una sonorità la prendo al volo e te la propongo per vedere anche cosa fai per dirmi eh non lo conosco bene se a me mi ricorda lui e te non lo conosci è interessante perché sei arrivato a un qualcosa che a me piace e non conosci da un'altra parte come ci sei arrivato da quali band capito allora l'interesse per dirti su quella pesce non ho avuto problemi c'era un disco di riferimento mio ma è diventato più una roba divertente fra di noi a far suonare certe cose con un disco preciso ma non che volessi copiare quel disco era che mi era affezionato talmente tanto a quel disco per certe ecco qui entra la parte più tecnica mia nel produttore nel senso quella manipolatrice io sono uno che compra microfono ogni 50 robe valvolari mirate per cercare di fare certi suoni lì ero legato ai suoni a certe sonorità che volevo ottenere in certi pezzi dal punto di vista musicale non me ne fregava nulla perché simile sì ma era simile sulla sonorità non sulla scrittura allora spesso e volentieri anche in in ascolto la in mix o in ripresa sentiamo come suona questo disco e mi sentivo questo disco due o tre pezzi ah e magari mi arriva fuori bello questo basso questo suono di basso lo potremmo fare in questo brano è chiaro e tanto non lo rifai uguale il suono non la parte allora magari da lì ti prende quel brano lì capito una direzione allora se faccio quel suono di basso non ci sta questa batteria ci sta questo tipo di batteria ah mi ricorda la chitarra iubi forti cavolo non ci avevo pensato talmente in dirottura ci può stare proviamo ecco questa è la bellezza di rifer fare però questo siamo in stato un po' più avanzato di una produzione quando mi mandi un primo lavoro spero presumo che sappi che cosa faccio io e che cosa ho prodotto se no un macello cioè dura un po' fatica a volte capito magari metto tanto entusiasmo una parte delle persone con cui lavoro magari all'inizio io non so dove andare a parare perché comunque un po' ti responsabilizzano le persone a me piace interagire fortemente con le persone parlare e farti anche ascoltare certe cose per dire no guarda questo non c'entra un cazzo cioè dobbiamo andare proprio in un altro versante è successo un disastro che non lo spero mai a nessuno che tipo ho prodotto un gruppo di Firenze che non esiste più dei ragazzini e la facevano post rock era prima di Giardini e Miró io ho prodotto tutti i primi dischi Giardini e Miró insomma per cui erano stati un po' capostipidi anche come produzione erano venuti da me abbiamo fatto tipo 10 brani 11 brani in digitale chiaro con anche 60 70 tracci fischioni suoni effetti preso bene per l'amore di Dio mettiamo un synth qua tutti no mettiamo entriamo una produzione mi erano divertito un sacco un giorno accendo il computer si è bruciato l'hard disk io non sono mai stato imbarazzato così in questo hard disk per l'altro c'era un disco in molteria anche che infatti non c'è più c'è solo i master però succede ho perso due o tre dischi però per fortuna già editi questo abbiamo finito tipo i messaggi tre giorni prima te dico solo questo io ho passato tre giorni a dire e ora cioè che cazzo faccio come glielo dica al gruppo tre giorni a dire tipo senti il telefono come vedete i film lo chiamano butti giù non è il momento non so cosa fare l'ho chiamati e tipo ciao l'ho buttata a sorridere ciao senti io so che ti può sembrare strano è vero ma si è bruciato l'hard disk mi stai prendendo in giro no guarda scusa è vero e il gruppo si voleva sciogliere devo essere sincero allora in questo caso mi sono rimesso a disposizione completamente mea culpa era un hard disk che si è bruciato ho fatto di tutto l'ho mandato ovunque per recuperare i file non c'è stato verso in uno di questi pezzi dove c'erano 70 tracce non avevamo nemmeno un mix per ricordarci cosa avevamo fatto era una fase in cui stavo per finire capito ho detto vabbè sono un momento per non avere fate sempre backup se fate lavori in questo comunque due tre è meglio da lì in poi è successo che su un brano in cui era era veramente una figata mostruosa 70 tracce sul disco è andato a chitarre e voce acustica per dirti l'arrangiamento e ti giuro che è stato pensato riprovato e è molto figo anche così lo stesso brano uno solo gli altri poi abbiamo recuperato e ricordato qui che avevamo fatto però qualcosa si è perso ormai quello non c'era nemmeno da poter paragonare perché non c'era niente da riascoltare capito c'è una follia che non avevamo fatto un backup e niente nemmeno un rough mix nulla tutto completamente perso per cui è andato a finire che lì la produzione a un certo punto un po' esasperata un po' facendo finta di dire ti risolvo io la cosa ho pensato quando uno esce senti ho pensato chitarra acustica e voce eh lì per lì è chiaro che te la devi giocare cioè devi essere un po' paraculo in questi casi cioè non è che cioè è vero è dire non so dove come si era fatto no ma come no ma avevamo messo tante tracce no guarda facciamo chitarra a sinistra voce a destra senti aspetta te la comprimo bene eh che figo bellissimo eh sul disco c'è quella è chiaro che un po' ci giochi cioè non e poi ti ripeto è uno dei dischi più lunghi che abbia mai fatto perché l'ho fatto due volte è la seconda volta cercando di ricordarsi le improvvisazioni perché tipo a metà era improvvisato fai conto c'erano due chitarristi che facevano tre o quattro parti l'una durante il pezzo presi con doppi microfoni aspetta ti faccio io una chitarra figa uuuu e quindi c'è niente tipo 20 tracce di chitarra come fai a rifarla perché poi cambia anche in produzione arrivi mi ricordo io ho prodotto il primo un disco di Paul Bonvenue piccoli facilissimi film lui è arrivato in studio in cui non era un produttore aveva registrato tutto lui da sé a Prato dello studio che aveva sono annomerato come produttore artistico perché io l'ho proprio manipolato era tutto una cosa diversa fra l'altro anche quello si è bruciato l'Aridisk dopo gli è caduto in terra e ha perso tutto cioè solo il master è rimasto non è tutto abbiamo perso io l'avevo già cancellato dallo studio perché era però a parte questo lì io l'ho proprio manipolato il messaggio la potenza della produzione artistica è stata proprio di dire rivoltato come un guanto e spesso e volentieri è successo lavorare con Paolo è un personaggio in cui voglio sempre avere tutto sotto controllo però mi sono trovato a dire allora senti Paolo ho capito tutto questo pezzo lo mixiamo così batteria si mette di qua qui si mette questo effetto e lui cazzo Giacomo è così che lo voleva vai al computer di là io lavoro e ti chiamo quando ho finito tipo due o tre ore dopo torno e ti avrei finito il mix a fatti già sì però è un po' diverso e magari era completamente da come si erano pensati insieme capito e a quel punto lì sta un po' al mood del momento lo sente cazzo strano è un diverso allora passiamolo è uno di quei pezzi che è sul disco insomma per cui a volte anche la produzione artistica se lavori se lavori con la manualità lo riesci a dare qualcosa in più anche una freschezza che non ti immagini capito sì bene bene domani giustificazione qui su registro vabbè ciao comunque per cui in realtà non c'è capito quello che ho parlato da inizio che non c'è una regola è questa la bellezza di riuscirti a fare trasportare da quello che stai facendo in quel momento rischiando e anche barando a te stessa agli altri ma in maniera intelligente nel senso sì sì ho capito tutto poi fai la tua cosa poi sei sempre in tempo a rifarla capito non avere paura o azzardare la mia parola a un certo punto nel mio lavoro ormai chi lavora con me mi conosce bene c'ho dei termini che ripeto a volte è azzardare che la gente va lì e pensa di dover in scatolare tutto ma che te frega azzarda un po' non costa nulla fare una batteria fatta bene la fa chiunque ma se tu paghi tu vai in uno studio e hai un microfono migliore o qualcosa voglio in genere voglio questa batteria vai e riuscire a dire facciamo qualcosa che abbia quel qualcosina in più che non è detto che sia solo di scrittura o di suono qualsiasi cosa cioè capito azzardare e dire sì voce più alta voce più bassa suona a destra suona a sinistra cioè mettersi in modalità azzardo nel senso non c'è una regola e dire mi piace questo perché non farlo a volte si tende a limitare eh ma se si ascolta questi dischi era lavorare su un disco di Molteni all'officina meccanica a Milano da Pagani chi non lo conosce ha uno studio enorme c'ha tipo quattro studi in uno quattro studi dentro nello studio più grande c'era la Pausini a registrare i due brani lei è l'antitesi del mio lavoro come lavoro è uno degli artisti che vede più in assoluto in Italia e è l'artista assolutamente in Italia ma forse anche in gran parte d'Europa che ha il recording budget più alto in assoluto perché c'ha soldi e vende per cui probabilmente se fossi io lei farei lo stesso per cui te lo dico sicuramente a livello di ricordi budget benissimo l'unica cosa che hanno è in scatolata lei deve fare una produzione in una certa maniera per ottenere questo è un po' uno smacca la miseria per me perché io sono stato alle officine meccaniche sono stato 16 bar a 17 giorni con molteni e dovevo registrare 18 brani e in parte mixarle tutti i 18 brani riarrangiate per cui abbiamo fatto venire un quartetto d'archi un giorno che ci ha fatto parlare un giorno sono arrivati un sacco di ospiti a fare delle voci dei pianoforti per cui nemmeno metodici abbiamo perso tempo fra virgolette non abbiamo potuto correre poche parole perché l'officina costa costa tanto lo studio però ti dà una qualità in questi 18 giorni io ho registrato tutti i 18 brani e ne ho mixati la metà la pausini era lì era a cavallo ho beccato delle registrazioni dei messaggi avevano preso 15 giorni per registrare due brani e 15 giorni per mixarle avevano un mese di studio per registrare e mixare due brani e ho visto le tracce ho conosciuto il fonico che l'ha mixato che è un tipo eglese assurdo con il produttore Dato Parisiri dobbiamo fare un pianoforte un pianoforte elettrico che può bastare un cavo perché è elettrico non è acustico lo metti o in un amplificatore o in un ADI lo metti in computer poi puoi usarlo trattarlo con un miliardo di plug in come vuoi poi ci hanno messo un giorno per registrare una parte di pianoforte elettrico l'avevano messo su degli amplificatori e io ho contato 11 microfoni davanti a questo amplificatore per un piano elettrico che se vai a sentire il disco è così cioè nel senso tanto non è che deve fare una roba alla Ray Charles o alla Steve Wonder che è tutto piano elettrico lì no in un contesto di un siglo della Pausini un piano elettrico lo percepirai che farà pam pam un giorno sono stati e non gli piaceva il suono un giorno poi hanno preso questo suono e l'hanno riversato successivamente in altre macchie una roba che non si capisce allora ecco questo è per quella l'antitesi del mio lavoro è un altro tipo di produzione ritengono cioè tipo sia lei che il produttore ho visto anche la Caselli con Elisa in studio tipo si sta dicendo Elisa e la Pausini che sono due mostri a cantare ma proprio di una bravura inimmaginabile in studio io ho sentito tipo delle take della o di Elisa della Pausini non mi ricordo perfette cioè questa cantava inizio alla fine è perfetta la Caselli bella ma facciamone un'altra vai questa è la differenza delle grandi e piccole produzioni poi nonostante tutto passa su autotune per intonare perché non si sa mai allora la produzione capito è un approccio completamente diverso perché dobbiamo essere non sicuri ma nemmeno sicuri due volte sicuri tre volte che non ci può essere nessun millimetro di imperfezione su qualsiasi cosa gli aneddoti che senti in studio da amici fonici che sono stati in studio o all'officina o altri grandi studi dice qui non faccio il nome perché potrebbe sono stati un giorno il produttore il musicista e altre persone con lui che era così li guardava e non riusciva a capire un giorno a decidere il tempo di un pezzo di un brano il tempo ora io posso capire chi è musicista o chi ci lavora un 120 121 già si dura fatica a sentire un BPM diverso però posso capire benissimo questi andavano tipo facciamo 120 450 120 480 e scene in cui a un certo punto uno ha sbattuto tutto è uscito dalla porta il produttore e hanno perso un giorno per decidere il click di un pezzo in un giorno in un giorno io faccio due pezzi ecco tutto questo purtroppo è la differenza di centri di produzione artistica in cui si instaura una cosa molto diversa perché magari con quanto costa il produttore artistico della Pausini per un giorno o due tu mi paghi a me per 10-15 giorni compreso lo studio allora lì è chiaro che non gliene frega nulla di stare un giorno su un click perché invece di avere a disposizione si ritornano sempre lì del budget capito avendo ora sempre l'altro sbagliato il bagnale ha sbagliato la Pausini che ce la ricorda di un budget più alto in assoluto per cui a costi di decine e decine di migliaia di euro non ha senso con il tempo tu puoi fare tutto quello che ti pare oppure non puoi mai fare gli esempi internazionali i radio lavorano per quello sono stati un anno in studio hanno fatto due dischi insomma ma il loro lavoro era lavorare a lunedì a venerdì come ognuno di noi va in fabbrica o in ufficio o al supermercato a fare il cassiero insomma ecco allora andavano in studio hanno a disposizione del loro studio per un anno per cui purtroppo c'è anche quello che a volte interferisce sulla produzione artistica i tempi il budget e quanto puoi fare anche se no si potrebbe fare tutto cioè su quello oppure ma guarda sì allora guarda c'è sempre a distinguere due cose fondamentali il limite che mi chiede in te la difficoltà è comunque un limite fisico del musicista hai quei musicisti che sinceramente magari vengono valorizzati dalla loro bravura dipende da che cosa fai purtroppo sempre un chitarrista che ti suona certe cose ti suonerà sempre bene su qualsiasi amplificatore però se puoi dare un certo sonorità doppiamente però quello fissato che vuole quel suono con quella sua chitarra per fare quelle cose che è anche bravo ce l'ha già il suo amplificatore bello lui arriva da me con il amplificatore e dico minchia il cazzo di suono è bellissimo mettiamo un microfono è una bomba cioè non gli dico nulla capito sulla strumentazione invece è diverso perché comunque la prima volta che vent'anni fa quando farsi il corso di fonico non erano delle grandi scime gli insegnanti però il primo che si presentò mi disse allora questo lavoro funziona così chi più spende più gode e questa è la verità più spendi più hai meno problematiche di qualsiasi genere io ho lavorato negli ultimi tre anni nel mio studio non potevo registrare perché avevo portato lo studio in casa in banca analogica cioè una stanza 5 metri per 4 come può essere come è la mia regina attuale in un altro posto però in casa tutte le macchine analogiche tutte le cose e non potevo registrare insomma scegliere ma è chiaro in base al budget si torna lì anche senza pensarci in base al budget scegliere lo studio più budget c'hai vai da da Mauro da Pagani alle officine meccaniche è un parco giochi per me è lì che problemi c'è vuoi un microfono figo vai ecco lo vuoi super figo vai ne vuoi due vai ne vuoi tre vai per cui ti diverti poi ho sempre instaurato da tanti anni con collaborazioni con tanti studi musicisti no Mauro lo conosco abbastanza bene posso usare tutta la sua roba che ha lui è un collezionista di strumenti chitarre amplificatori per cui sono andato lì con un gruppo il chitarrenista era un po' una schiappa però le parti erano abbastanza semplici perché era una roba meno tecnica ma più musicale parti semplici riff che suono vogliamo fare ma guarda siamo nel rock tipo Pixis queste cose qui anni 90 inglesi ma bene sono andato di là ho preso tipo sei amplificatori sei amplificatori della storia tipo un Marshall un Ivat un Orange un Vox un Twin un Super Reverb ho preso sei chitare che avevo lì una Telecaster una 335 ora non so se ti dico i nomi non so se tutti li conoscete insomma dei super classici tutta roba vintage perfettamente funzionante con un suono della Madonna una montagna di pedali effetti che c'ho io che si porta il gruppo che aveva uno studio Pagani che suona vogliamo questo qui Telecaster Orange Tube Scream alla manna cioè sei proprio ragazzino nel negozio di giocattoli capito lì allora guarda io tutto quello come passione come appassionato mio ho avuto sempre dei periodi perché sono è il mio lavoro ma non è solo il mio lavoro è la mia passione fare questo tipo di lavoro e sono molto contento di poterlo fare ho avuto tanti periodi tipo ho avuto il periodo il mio strumento principale è il basso sono un bassista però tipo il periodo che ero fissato con le tastiere mi sono comprato un mille tastiere poi vengo da un'età in cui ancora si trovavano occasioni all'epoca per cui ho trovato anche tastiere accanto ai cassonetti la spazzatura che buttavano via magari erano i ganetti la farfisa della eco però adesso ricercati e fai cose poi ne compravo altro vendevo e lo stesso l'ho fatto un po' per tutto il settore cioè incomincio da pensare alla batteria alle tastiere alle chitarre ai pedalini nell'arco di questi anni è chiaro che ho provato un po' e ho deciso a volte non sono mai stato costretto a vendere per esigenza ma solo per cambiare di mentalità ma ho ottenuto delle cose per cui ho delle cose basi in cui quelle che ho sono per il mio lavoro non sono geloso dei miei suoni cioè se io trovo faccio un esempio una chitarra con un overdrive una chitarra mezza distorta c'ho un mio amplo che mi fa un suono un mio pedale che è una bomba mi fa un suono la mia chitarra se te mi dici io vorrei questo suono guarda con questa catena che ti do io lo riusciamo a fare se non sei geloso di quello della tua roba se magari non hai un'altra catena bella che ci dice ce l'hai perfettamente il suono se provi questa è quello che vuoi poi se non è quello che vuoi cerchiamo per cui io metto a disposizione tutta la mia esperienza e tutta la mia roba che ho perché l'ho comprata apposta per fare questo cioè perché te vieni da me e mi dici guarda io vorrei questo suono ma non c'ho 5.000 euro per comprarmi questa ampura questa chitarra questo pedalino ce l'ho io ma è fortuna lo fai e poi sono sono affari tuoi a farmi lo suonare bene e la vabbè si in questi tre anni che sono stato diciamo che una mia ripresa io ho distrutto no distrutto la macchina no no ma ho fatto insomma perché io pivo la macchina con tutto quando sono venuto qui giù a Impuglia con Colapesce siamo andati a Lecce il disco l'abbiamo registrato nello studio di Roy Pasi c'era bellissima roba ma io mi sono portato giù la batteria mia la testata dell'amplificatore del basso mio il mio basso le mie chitarre tutti i pedalini i primi amplificatori alcuni microfoni due o tre compressori da studio insomma no no ma sapevo sapevo tutto cosa aveva cioè se mi dici guarda c'ho cinque niv non porte miei oppure porte miei così ce ne abbiamo sette in questo caso però la la diciamo che è un valore aggiunto perché comunque sia la bellezza di andare in studio almeno per quanto mi riguarda me è che più roba hai più ti diverti cioè capito se vai in uno studio e c'hai dieci 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 se non mi fa fatica porta anche i miei così abbiamo dodici 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 faccio un esempio magari non ci servono ma si può scegliere tipo lì da Pagani c'era una vasta scelta anche di macchine no per un studio mi può permettere cioè posso perdere anche due ore per scegliere che microfono usare su quale preamplificatore usarlo sulla cassa se non ho fretta su un disco per dirti quello di Molteni che lo producevo in maniera con l'idea molto chiare ho provato credo sette otto microfoni sulla cassa usando sei o sette preamplificatori diversi e cinque o sei compressori diversi tutte le varie opzioni allora tu devi essere te in grado di apprendere il batterista guarda abbia un po' di pazienza e sta due ore lì a pigiare la cassa tu e te che cade quello continua a pigiare e te hai energia magari questo è un po' scuro proviamo a cambiare ancora si si vai ancora però nel senso può risultare noioso però io sono uno che come concezione lavora più all'americana che all'inglese la differenza qual è l'inglese di solito lavora prende tutto subito velocemente e manipola tutto tanto dopo l'americano prende meno subito ma prende un suono più finito e lavora meno dopo è proprio una scuola di pensieri diversi anche di macchine questa è la storia anni 50 60 come concezione di lavorare per cui io sono uno che mixa in pochissimo tempo i dischi mi sono riusciti meglio e li ho mixati in due o tre ore ogni brano due o tre ore poi mi è capitato di fare anche un brano due giorni il messaggio no ti capisco perché un po' la pensavo così anche io all'inizio come te no no ma proprio violenti non rischio ma non un po' tanto però si ritorna a quello che diceva lui devi avere la macchina perché se usi un preamplificatore di merda non è che tu stai lì un'ora rimane sempre un preamplificatore di merda e non arrivi a nulla capito allora forse prendilo più pulito possibile e modificalo dopo allora questo sì questo è fondamentale poi mi è successo alcuni mix in cui il messaggio ho talmente preso delle cose alzi i volumi e dici c'ho il 90% del mix fatto solo di volume poi è chiaro che vai a regolare qualche qualche strozzatina le solite le solite pippe si fanno i fonici che ascolti deve essere chiaro oscuro quella è normale insomma non è che proprio lo fai ma non dipende anche dove vuoi arrivare sempre perché poi io per dirti dovessi lavorare un giorno su un pezzo impazzisco cioè a un certo punto non so più che farti e poi ti prendi un trip e dire perché non va bene e magari quando il gruppo ti dice senti scusa stai scontando un imbrano a 30 volte io non ho capito un cazzo che cazzo ci stai facendo 30 volte in fila però secondo te ogni volta è differente e ti dici ma forse hai ragione perché magari sei lì su un un db o due e senti delle frequenze che magari ti stai facendo un viaggio te capito che magari all'atto pratica all'atto finale non servono allora la freschezza è la cosa migliore sempre non prolungare mai tempo in studio cioè quando ero giovane 20 anni fa 15 anni fa ragazzi ma sono le 7 andiamo a fare colazione poi a letto sai quante volte è successo cioè 7 di mattina ma facevi la dritta entravi in studio a mezzogiorno alle 11 di mattina arrivavi a cenare e andavi alle 6 di mattina alle 7 di mattina siamo qui da 18 ore forse non ci capiamo molto poi vai a dormire ti svegli tardi è un principio ultimamente sto lavorando meno ma si fa molto di più questo è un altro concetto che bisogna insegnare alle band quelli che ti dicono ma senti ma io ho pochi soldi vabbè facciamo meno giorni ti venga incontro ma quant'è che lavori possiamo entrare alle 9 alle 10 di mattina e fare alle 8 9 di sera ma se ti prendo 3 giorni e ti pagano 3 giorni però possiamo lavorare fino alle 5 di mattina nel senso ti dovrei far pagare un giorno in più no? però come si fa? non ti rendi conto che è deleterio? un sacco di volte me l'hanno chiesto non arrivi a niente perché a un certo punto perdi proprio la cognizione e te se mi tornai al discorso iniziale che dovresti fare il produttore a un certo punto ti rendi conto che hai un momento che stai perdendo solo tempo per far girare il tassametro perché non ce la fai più capito? e magari in quel momento il gruppo è lì a sfarfallare su delle paranoie e cercarsi il suono questo la velocità questo non si è nemmeno parlato così ma la velocità del riuscire a fare le cose secondo me in studio anche in una produzione è fondamentale cioè fare veloce no ma qui io avevo pensato questa chitarra avrei pensato che si poteva fare quel suono facciamola sta un po' anche a chierare suonala facciamo quella che dici te e quella che dico io e vediamo quale dei due ci piace di più si mette sicuramente di meno in questo quando c'è i quattrini quando c'è i quattrini no scherzo 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 quando è inconsciente fondamentalmente quando è inconsciente perché ti innamori del progetto e sicuramente le prime volte che ti innamori di un progetto capisci che è un amore che non ha a che fare con l'economicità del progetto e allora devi essere conscio che ci perderai i soldi di soldi nei primi progetti di cui ti innamori e dici produco io parlo tutto io e cose del genere sono quelli che non funzionano o magari sono a lungo termine devi lavorare magari a lungo termine quello si però io ero uscito da un'etichetta la prima etichetta la home zip sono stati tipo due anni senza senza lavorare con l'etichetta faccio il mio studio fonico però mi rendevo conto questa è la sottile linea che ti frega che la mi mancava qualcosa manca dell'idea di non lo so e un giorno eri successo era normale che sarebbe risuccesso sono stato folgurato da un gruppo live suonava di spalla a un gruppo che accompagniamo io e lì sono andato a loro e dico ragazzi io ho uno studio di registrazione avevo un'etichetta discografica mi fate impazzire facciamo il disco insieme e lo faccio tutto io e le vediamo da mandare e allora l'ho fatto va bene mi conosceva non sapevo chi ero da dove venivo per l'amore di Dio ma anche anche se non fosse così e da lì sono ripartito ho aperto un management poi non hanno questo progetto poi ci sono stati altri problemi da un punto di vista proprio di soldi esecutivo capito perché poi a un certo punto dopo il momento di slancio poi anche poi ti indietro a metà lavoro ma nemmeno a metà lavoro cioè nella fase successiva perché l'esecutivo poi comporta tutte le altre problematiche nel senso nel nostro settore nel mio settore se produci un disco a livello esecutivo devi incominciare a pensare lo dobbiamo vendere lo dobbiamo anzi lo dobbiamo commercializzare per cui devo fare un cd se faccio un cd che faccio me lo pago io me lo dovrei trovare un'antichetta discografica che me lo stampi l'ufficio stampa chi me lo paga io la distribuzione cosa faccio vado a porta a porta io se fai tutto te cioè il budget li hai a metà esponenzialmente capito anche se è poco te lo stampi paghi la stampa cioè non ci vuole nulla capito diventare un'antichetta discografica oggi può diventare anche la mia mamma se si tira fuori qualche soldo dice io sono un'antichetta discografica e lo è prendo un cd lo mando in stampa dove lo mando io o da qualsiasi stampatore se fa arrivare mille cd a casa le rimanda all'ufficio stampa paga all'ufficio stampa per assurdo per dirti però poi c'è tutto l'insieme dietro e cosa fai poi non ti non non ti tuteli o non o non cerchi di far sì che la il gruppo che hai prodotto non faccia the live perché più live fai più il gruppo viene conosciuto più magari 20 cd oppure se fai da management perché devi riprendere i costi della produzione perché magari sei proprietario nel master allora io non so chiedi una percentuale sui live o una percentuale come management per cui più girano soldi più ti rientrano quindi diventa un po' una spera una speralona insomma che ti porta in un bar spesso e volentieri infatti da lì quando sono ripartito questo gruppo ho fatto un anno di management dopo un anno ho rimesso su una casa discografica insomma perché me ritrovavo a fare il lavoro a discografico e proponendo ai miei ex soci e a tutti gli ex miei colleghi le etichette cioè era ancora Giacomo di Homeslip ho capito e andavo per dire dalla Tempesta dall'Agosto da altre etichette indipendenti a proporre di fare di fare un disco che faceva un po' strano a tutti insomma per cui mi sono fatto un'etichetta e sono andato avanti un'altra volta e lì mi sono un po' rovinato insomma perché poi ti incasini un po' ecco poi ti parte qualche gruppo diventa tutto più grosso al di là che possono generare più soldi questo può essere un bene ma non ma è tutto più complesso insomma gli equilibri commercialisti responsabilità di distribuzione insomma è un po' un bordello lì cioè lì si va in un ambito completamente differente che non se ne esce più insomma ecco forse sarebbe meglio non farlo io do questo consiglio spesso e volentieri cioè il mio lavoro è un lavoro che se non hai una passione non va da nessuna parte o di avere un pacco di soldi allora investiti faccio un investimento 100, 200, 300 mila euro quanto vuoi crei una struttura delle persone che lavorano è come una società qualsiasi però dipende io ho personalizzato la prima la seconda non ce l'avevo insomma ecco per cui parti sono sempre partito da piccolo a stampare un disco se è entrato qualcosa in più ho i soldi per stampare un altro e vieni scendo e di conseguenza è chiaro che la figura che posso aver avuto anche di produttore artistico mi ha agevolato questo perché ma perché si fa le produzioni artistiche perché spesso e volentieri magari come succedeva trovavo un gruppo mi piace ti faccio io ma facciamo un disco insieme te lo produco proprio in tutti i sensi capito per cui risultavo produttore perché era una sorta di collaborazione ma perché mi piaceva perché credevo in quel progetto per cui tante cose sono nate un po' per caso anche non è che io mi sono messo un giorno oggi divento produttore artistico mai insomma nel senso anzi forse quando ero all'inizio non sapevo nemmeno cosa voleva essere dire produttore artistica per cui insomma fa scemi e basta l'importante è fare quello poi dopo capisci che magari ti può rendere qualcosa di più per il tuo lavoro finalizzare e dare un senso no che sei il produttore o che fai altre cose però intanto cambia cioè domani sarà sempre una cosa diversa di base non non si potrà mai sapere quello che che fai con un disco cioè a volte succede che ci azzecchi quello sì e quello è molto bello altre volte riesci a fare decentemente altre volte dici forse sarebbe meglio cambiare il lavoro perché sei un po' stanco ti impegna molto insomma come lavoro perché poi se ci metti la passione te la porti a casa il lavoro e duri un po' fatica devo essere sincero perché poi se incominci a seguire i gruppi insomma l'anno scorso ho fatto tipo 150 date in giro per l'Italia proprio perché ho prodotto delle cose e ho deciso di produrre dall'inizio alla fine per cui anche in fase in fase di live al di là che ci può essere un guadagno ma è normale perché se sto fuori 150 giorni dovrò guadagnare anch'io però insomma è difficile è un po' più complesso io farei una pausa se ce l'abbiamo se non mi dispiace ho detto di fare magari 10 minuti di pausa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti